È stata Raffaella Scuotto, tramite una storia pubblicata su Instagram il 18 ottobre, a condividere con i suoi follower la fine della sua relazione con Brando. Prima di immergerci nelle ultime novità, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che, dopo una serie di episodi non specificati, lei e Brando anche lui ex partecipante dello stesso programma hanno deciso di prendere strade diverse. La notizia ha lasciato senza parole i fan della coppia, che fino a poco tempo fa appariva unita e pronta a fare il grande passo della convivenza. Infatti, la loro storia, nata sotto i riflettori del celebre programma, sembrava andare a gonfie vele, e in più di un'intervista Raffaella aveva confermato che il trasferirsi insieme era una prospettiva concreta, anche se preferivano aspettare il momento giusto per questo importante passo. Proprio per questo motivo, la separazione è stata un fulmine a ciel sereno per molti dei loro sostenitori. Nel suo messaggio, Raffaella non ha voluto approfondire i dettagli degli eventi che hanno portato alla rottura, lasciando spazio a ipotesi e congetture tra i fan. Nonostante il dolore del momento, ha comunque voluto rassicurare i suoi follower, affermando di essere serena e di aver vissuto una relazione vera e sincera con Brando. Al momento, né Brando né Raffaella hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, alimentando la curiosità e la possibilità che ci siano ulteriori chiarimenti in arrivo. E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo al prossimo video.